Ok, ora che abbiamo la Monalisa esportata in .obj ci accertiamo di avere la versione 2018 420 f1 che è quella che attualmente è considerata ufficiale per VRChat perché vogliamo esportare su VRChat andiamo sui progetti e con quella versione costruiamo, 2018 420 f1 un nuovo progetto che chiameremo Monalisa e lo mettiamo sotto GAppsUnity ok, quindi facciamo create quindi ci crea questo progetto e in questo progetto adesso andremo a importare ciò che abbiamo appena generato il .obj ok, quindi andiamo sicuramente qui intanto ci prepariamo i file di Monalisa nel frattempo ci scarichiamo anche il .sdk se ne abbiamo già fatto quindi da VRChat download quindi dovete andare sotto VRChat registrarvi con la vostra identità e una volta entrati vedete che c'è qua download e vi scaricate il io scarico in questo momento l'SDK3 Worlds quindi Worlds SDK3 che consente di attaccarsi da Unity però prima di usare il Unity Package che abbiamo scaricato in quel modo vediamo un po' cosa succede quindi qua abbiamo un sample scene e ci proviamo a mettere dentro gli assets e in questo momento facciamo una cosa molto semplice quindi mettiamo tutto sfuso negli assets poi vi segnerò a un certo punto di mettere poi le cose in cartelle perché così si fa meno disastri allora quello che diventa importante qua è di scaricarsi tutti i file generati da Suite Home 3D quindi tranne l'SH3D che non serve lo portate nella cartella dove volete che vengano utilizzati e a questo punto andate soltanto a verificare vedete che c'è la... cioè se vedete praticamente ecco praticamente si è importati tutti i materiali quindi è a posto nel senso che se noi questo oggetto quindi questo tra l'altro qui c'è un Monnalise vuoto ma non so quindi Monnalise se questo lo prendete lo mettete dentro vedete che lo mettete dentro ed è una cosa mostruosa quindi questo è un problema di Suite Home 3D che costruisce cose troppo grosse io ho visto che 0.02 no, di scala magari quindi rotation la lasciamo a 0 e la scala anziché 1 gli mettiamo 0.02 in realtà probabilmente il termine giusto sarebbe sarebbe 0.0.15 ma per il momento facciamo così quindi praticamente vedete che abbiamo il nostro abbiamo importato in Unity la nostra OBJ e il che è tutto molto molto carino ora prima di andare avanti ci accertiamo soltanto ecco una cosa interessante è che se entriamo dentro ci avviciniamo no credevo che avesse importato anche il soffitto se noi vedete che selezioniamo i muri qui c'è il muro muro ci sono i vari muri e c'è poi il pavimento e c'è in teoria dovrebbe ah e si infatti vedete che c'è anche il soffitto quindi la prima cosa che penserei di fare è di togliere il soffitto giusto per dare l'idea di una stanza in mezzo a un ambiente quindi selezioniamo il soffitto che è questo in teoria dovremmo Room 527 cancellarlo ci dice che non possiamo perché è un prefabbricato quindi la prima cosa da fare sarà di fare l'unpack del fabbricato riselezioniamo il soffitto Room 527 cancelliamo e vedete che siamo all'aperto ora per farla in breve cosa dobbiamo fare adesso dobbiamo innanzitutto qui vedete che ci sono le luci luce direzionale che è messa dentro che non è in cui molte parti sono in in ombra quindi prendiamo la Directional Light che è questa vedete che è inclinata in questa direzione e la giriamo in modo tale che abbia ecco proviamo la rotazione 0 giusto per vedere ok 0 0 0 direi che non è quello che vogliamo quindi prendiamo questo e la ruotiamo in modo tale che vada verso il basso quindi di 90 gradi direi rotazione 90 0 0 quindi la luce viene proprio esattamente dall'alto e vedete che ci illumina in questo modo tutto il pavimento in realtà forse conviene inclinarlo leggermente in questo senso e in questo senso in modo tale di illuminare il quadro e la scritta però vedete che così facendo mancano cioè le altre due pareti che sono qua a destra risulteranno in ombra o seminombra quindi facciamo la direction light la duplichiamo e questa è una delle due luci ce la spostiamo di là e poi la ruotiamo anche qua nel tentativo di evitare insomma quelle luci quindi aspetti direttional light una questa facciamo così e poi la direction light due è questa quindi rimangono ancora parzialmente in ombra ma non completamente nere comunque poi per le luci eventualmente vi gestite anche voi a questo punto bisogna importare lo unity package corrispondente all'sdk3 che avete tirato giù quindi io mi cerco l'sdk3 che era lo unity package questo lo dobbiamo adesso ecco in teoria ecco se lo portiamo qua sotto dovrebbe importarlo ma non non c'ha voglia quindi facciamo assets facciamo import package custom package e gli mettiamo il questo unit package quindi copy vedete che io uso questo everything che mi trova le varie cose perché non mi ricordo mai dove l'ho messo ok non è questo è infatti che credo che sia questo perché l'altro è di un altro account quindi copy full name lo prendo ok adesso vedete che lo prende quindi adesso vi risparmio tutto il tempo l'impiegato ok a un certo punto vi fa vedere che abbiamo questo pacchetto e facciamo l'import quindi clicchiamo import ecco dopo tutto il suo tempo si è impiegato più di 5 minuti dovrebbe aver finito quando vi fa vedere più o meno questa maschera quindi potete chiuderla e a questo punto cliccate su VRChat SDK facendo VRChat SDK andate su Show Control Panel dovete fare il sign in con il vostro account di VRChat una volta fatto il sign in andate ok vi dice che manca qualcosa nella vostra scena quindi il VRC Word in particolare quindi noi andiamo qui cerchiamo VRC Word questo VRC Word lo prendete e lo mettete più o meno in una posizione centrata in pratica è lì in modo tale che guardi più o meno cioè praticamente è il posto in cui viene rezzato il spawnato l'avatar quando si entra e salvate la scena mi raccomando andate in VRChat SDK tornate in Show Control Panel la prima volta vi fa vedere un punto esclamativo rosso vi dice di cliccare qua vi dice di cliccare qua quindi tutte cose che farete vi dice ancora di fare il fix quindi fate auto fix l'auto fix è praticamente un sistema che ha lui per fissare la luce e dovrebbe averlo fissato automaticamente quindi di cliccare che intorno